Vorrei porvi alla vostra attenzione questa iniziativa della Regione Veneto, ovvero un'app chiamata Vivi Veneto, che consiglio sarebbe il caso di non scaricare e fare la stessa fine dell'app Immuni, perché questa non è altro che una sorta di pre-sperimentazione del portafoglio digitale europeo di cui vi ho già parlato e poi farò un altro approfondimento perché ho da dirvi altre cosette. Ovviamente questa cosa qui, di questa app Vivi Veneto, riguarda diverse cose, però non è del tutto completa, ma già direi che questo vi basterà, quello che vi farò vedere oggi in questo video, ovvero dice che questa app, applicazione che nasce nell'ambito dell'agenda digitale Veneto 2025 per semplificare la vita di chi vive in Veneto, ovviamente la devono vendere come cosa buona che semplifica, che aiuta, però poi ci sono diversi retroscena dietro e ve li farò vedere. Vi ricordo che l'anno, il punto di non ritorno, sarà appunto il 2025, ve lo dico da anni in più, poi ci sarà il 2026 col PNRR che lì proprio o schiavi o liberi, bisogna fare la scelta, però bisogna farla prima del 2025, quindi già da quest'anno e l'anno prossimo bisogna attivarsi per non fare parte di questo sistema. Ma adesso andiamo con ordine e qui sottolineano sempre nel sito ufficiale della Regione Veneto, tra le 16 schede del PNRR, proprio lo dicono loro, regionale, è dedicata al potenziamento delle infrastrutture digitali e servizi per Vivi Veneto, quindi fa parte del PNRR tutta questa iniziativa. Adesso, se non vi è bastato tutto ciò, vi mostro qui, Regione Veneto, Agenda Digitale Veneto, proprio la scheda, la pagina di Vivi Veneto dell'applicazione, ok? E già guardiamo che riguarda amministrazione, salute, turismo. Ma andiamo a vedere il loro video tutorial su come scaricarla, eccetera, vi salto quella parte. e andiamo a sentire cosa dicono loro stessi, loro stessi, che cosa contiene questa app, però non la promuovono, diciamo pubblicamente, lo mettono in mezzo a un video, lo buttano lì, ma ascoltate attentamente cosa contiene e cosa bisogna fare per avere questa app. Una breve guida all'utilizzo Una volta avviata l'app, cliccando sull'icona, si potranno esplorare i servizi digitali della Regione del Veneto, quelli dell'amministrazione, quelli della salute, quelli del turismo. Naturalmente, per molti dei servizi dell'amministrazione e della salute, bisognerà autenticarsi attraverso Speed o CIE, per la protezione dei dati sensibili. Avete studiato bene? Naturalmente, quindi è scontato che servirà avere l'identità digitale, lo Speed, quindi, occhio, è tutto collegato a quello che vi sto dicendo da anni ormai, però adesso è realtà e ce l'abbiamo davanti agli occhi. Vediamo adesso più nello specifico. Questi servizi pubblici digitali della Regione e dei Comuni aderenti al progetto, che avrai a disposizione. Io salterei questa parte, passerei a una cosa, o vi svegliate, o... non sa cosa dirvi. La sezione Salute, ok? Ascoltate attentamente qua. Tutti i servizi sanitari per la tua salute. Alla prima voce potrai cercare il pronto soccorso più vicino e controllare anche l'affluenza in quel momento di qualsiasi ospedale. Qui invece potrai visualizzare e scaricare i referti e documenti relativi alla tua salute, prodotti dalle USL della Regione. Qui avrai sempre a tua disposizione la tua storia clinica ovunque sarai. E sempre qui potrai visualizzare le prescrizioni specialistiche, prenotare visite ed esami nelle USL della Regione, potrai scegliere o cambiare il tuo medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. E fin qui, tutto bene. Sono d'accordo che può servire un'app per fare tutto questo. Ma poi, ascoltate adesso, drizzate proprio le antenne, le orecchie, che cosa dice adesso? Potrai visualizzare e scaricare certificati. Quello vaccinale è il Green Pass. Avete ascoltato bene? Ve lo rimetto perché mi sa che molti non hanno ancora capito cosa contiene quest'app. Scaricare certificati. Quello vaccinale è il Green Pass. Il Green Pass. Certificati vaccinali. Quindi, in poche parole, adesso stanno promuovendo, un po' come fanno con tante altre cose, queste nuove tecnologie. Poi, dal 2025, sicuramente dal 2026 in poi, attiveranno tutte quelle cose che vi sto dicendo. Compreso il trattato dell'OMS, quindi tutto quello che dice l'OMS bisogna farlo, crediti carbonio, credito sociale, tutta quella roba lì. 2025 barra 2026. Quindi, adesso stanno sperimentando questo schifo e se la gente lo accetterà, lo attiveranno. E una volta attivato, poi dopo incominceranno a introdurre tutte quelle porcate di cui vi sto avvisando da anni. Ma la gente non vuole credere, non vuole ascoltare, non vuole attivarsi. Detto questo, fate voi i vostri conti. se è il caso di stare con le mani in mano, non informarsi, non condividere, la vita è vostra. Io non posso, c'è il libro arbitro e dovete decidere voi cosa fare della vostra vita. Bene, a presto con le prossime notizie, aggiornamenti e video.